buongiorno amiche mie brutto orario dai oggi cerchiamo di fare un video non dico diverso qualche cambio e poi magari facciamo un girato in negozio se avete voglia di stare con la vostra gabrie io spero di sì cosa dite voi dai ieri qui è stata una giornata uggiosa una giornata proprio brutta 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 e guardando il nostro negozio e vedendolo anche in questa stagione comunque così colorato con i colori diciamo moda di questo momento a prescindere che io oggi abbia optato per il nero il colore non colore più bello che ci sia che dire ragazza voglia di essere qui un attimo con voi se siete un po impegnate se potete un attimino seguirmi diversamente come dico sempre seguite la differita su sulla pagina facebook gabrieese abbigliamento donna appena abbiamo concluso il video in diretta diversamente nel giro di un'oretta o qualcosa di un'oretta lo trovate sul canale youtube e poi lo trovate sul sito gabrieese abbigliamento donna.com sapete non si sa mai ragazze facciamo che magari qualche vostro marito dica basta questa gabrie e ci sarò sempre non ho più spazio nell'armadio mi occupi tutti lo spazio allora cosa è o convincete i vostri mariti ad acquistare un armadio in più me lo dite sempre in ogni chat diversamente spero che vogliono sempre bene la vostra gabrie e comunque sia qualsiasi cosa capiti da una parte dall'altra sapete che siamo su tiktok sapete che ci trovate su youtube al canale gabrieese anzi andate iscrivetevi così siete lì poi pagina facebook gabrieese abbigliamento donna e soprattutto il sito che il sito lì c'è sempre vedete tutto indifferita al limite è solo la questione della diretta ma indifferita vedete tutto è poi cosa dovete fare scrivere su whatsapp a questi numeri c'è il telefono fisso oggi di tiktok io spero di essere ripresa bene perché c'è una sorpresa quindi 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 svegliamo intanto il capo che indosso che è il nostro bellissimo completo in ecopelle con la gonna lunghetta io indosso una taglia 40 di tutto sia la giacca che la gonna perché a me piace comunque che segua un attimino aderentina l'anno santo aveva messo la 42 sono certa che vi aveva detto poi gestite un po voi come vi piace vedere indossato l'articolo quindi gonna 59 euro tu simona correggimi se per caso la mamma sbaglia qualche prezzo visto che ti ricordi tutto e la giacca 109 euro cosa vogliamo dire di questa pochette meravigliosa stupenda bellissima io la adoro spaziosa quanto basta quindi ci si mette il cellulare ci si mette tutto perché ha una bellissima profondità catene metallo 89 euro ovviamente facciamola vedere da vicino pelle pitonata stupenda e meravigliosa lo vedete bim perché siete un attimo il telefono è fissato e poi capirete il perché quindi ho detto tutto indosso una taglia 40 diamo fiato alle trombe se avete qualche domanda ragazze fate qui è dove arrivate alla vostra gabri lo sapete quindi no mettila adesso ma che bella ma che bella ma chi pensiate che ci sia chi pensiate che ci sia da questa parte una silhouette oggi ha fatto un piacere ho detto dai a dire la verità no ve la dico tutta volevo che facesse il video con me simona ma simona oggi non aveva voglia perché dice di non stare bene di conseguenza scusate no ma scusi lei che brezza ragazzi la panterona la panterona ma mai avrei pensato la panterona di villa carcina nave nave ragazzi no no qui siamo a villa carcina se mettiamo una nave non va bene la panterona di villa carcina che dovrebbe essere l'inizio di una valle di lacrime perché perché piove sempre però sei fotonica aspettate un attimo che differenza c'è che oggi indosso questo completo con un biker vedete giusto giusto per dire e invece a lei ho prestato i miei stivaletti ma cosa vogliamo dire di questa ragazza ma santo cielo santo cielo santo cielo bellissima sarebbe bene anche a te comunque vedete che si può portare anche la lunghezza in maniera diciamo siamo sempre inquadrate si diversa o le scarpe col tacco anche perché adesso vado a fare un girino metto qualcosina di diverso sopra e così vedete questa giacca la possiamo spezzare con tutto come la giacca di carta perché ovviamente fa parte di un taglio a dobbiamo dire che arrivano anche calzoni allora siccome stiamo ritagliando questo tessuto scubino meraviglioso fantastico riassortiamo le giacche riassortiamo le gonne arriva anche il calzone dalla 40 alla 50 allora ci avviciniamo a far vedere i nostri giuglielli guardate la meraviglia di questo a 20 euro esatto e la meraviglia di carta avete in tik tok non ti si vede usate tutto bene vi è partito tutto giusto si è yes ti senti bene allora io faccio una cosa se proprio te lo devo dire preferivo stare la dietro e vabbè allora ragazze dai come si fa come si fa come si fa avere qui due ragazze così è poco più poco meno di quarantenni e e doverle forzare per farsi vedere cioè tu che taglia indossi io allora se vado a cambiare un pezzettino così tanto tu e spieghi la taglia che indossi e guardate ragazze mi viene solo in mente così se volete fare un abbinamento e mettere magari anche la cinturina meravigliosa su un abito su quello che volete si vede è vero intanto io appoggio qui sperando di non oscurare nulla ok ecco e tu tieni a vada se le nostre amiche magari di tik tok si non a chiedono qualcosa perché un attimino ci volevano le mani di katia ma abbiamo posizionato lì in fisso ma vedo che siamo diretti ok deve starci tutta giusta io ci stiamo ci sta un'altra anche in parte un'altra allora così adesso spieghi tu ma io voglio solo andare a togliere la giacca e mettere un'altra cosa giusto per faccio facciamo due tre cambietti e ci sostituiamo sono tutti complimenti per katene secondo te poi te li leggi c'è la renatina che dice bellissima brava kat e la susi che dice ma che super super gnocche oggi katene ruba la scena ma è quello che voglio è quello che voglio perché indossa e lo dico io e poi tu dirai magari se le tiramento cos'è una taglia 54 ma giusto perché ha detto voglio far vedere alla nostra amica questa taglia potevo indossare anche la taglia in meno perché è in forte discesa quindi complimenti katene complimenti vado a cambiarmi spiegati un attimo danza da palcoscenico allora ragazzi va lì ho parlata allora il negozio vi dico abbiamo 48 52 54 potevo indossare anche una 50 una 52 però ragazze anche se è un attimino morbida c'è non è nessun problema dopo c'è quella che la vuole inciucciata gli diamo la sua taglia giusta senza problemi 119 euro così ve la faccio vedere bene katene fantastica bella bella katene katene stai da dio brava sì anche leopardata sono da dio stai benissimo facciamo vedere dentro com'è insomma fa la scena a gabri di qua non ti vedono tanto e vi spostate un pezzo dalla 40 alla 54 perché a breve tornano tutte abbiamo anche la longhette da abbinare e arriva il pantalone in grande novità e abbiamo ancora due camicie perché sarebbero tre ma sono due 54 e una 42 che vestono benissimo e se volete poi ve la facciamo vedere intanto arrivo katene partito di fare ancora un cammino visto che sto solo tu in set spettacolare scusate tornata spettacolare sto sudando spettacolare anche sotto giacca può anche per andare a ballare questo qua è fabuloso ecco allora adesso faccio vedere io perché voglio andare a mettere ancora una camicia vai dica Anna uo kate aspetta perché è andato su oddio così sei il top se esci così stasera cucchi Anna Daudine Anna Daudine fermati lì no no ferma adesso ti oscuro io fermati lì adesso parlo io sì cioè non c'è bisogno allora se usciamo in tre posso dirlo io te e Simona ah ok quella che cucca ha provato è sempre kate ma perché io la parlo antina ragazze se ne no no non c'è abbastanza no non lo so c'è un qualcosa che non mi quadra bene ma onda onda ma la kate non ha bisogno di queste cose la kate è la kate cucca anche in pigiama e i ciabattoni di lana infatti pigiama e bigodini non lo so c'è qualcosa che c'è qualcosa che non so ogni volta ma è da tanto che ci poniamo questa domanda avere qui di carana da udine cioè tu l'hai detto figurati adesso figurati adesso che mi esce con il look e gabriesse perché in realtà all'epoca sì no esatto sto sbucciando un pochettino adesso bisogna credere in se stessa ragazzi comunque hai un sacco di complimenti positivissimi ma ciao ci promettono fabio 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 ciao ciao gabri ciao a tutte come ti chiama sempre simone non so mai come siete adesso sai che lei la russa è il kate ciao fabio bacione grande un po' che non ti fai sentire raffaella dice che sarà felice tuo marito kate a vero il marito quello che avevo no allora ne ho avuti fin troppi esatto io ormai ho fatto la collezione panini lasciamo stare sono un po' sfortunata però ho tre bimbi bellissimi me li godo ecco esatto una diciottenna a tutti bimbi mamma mia non ricordarmelo quindi dai sei fortunata anche in quello quindi cosa vogliamo dire adesso sei fortunata adesso adesso non è un marito ma è un compagno non dobbiamo farlo sapere ma no no ragazzi ecco quindi assolutamente il mio edo ciao amore ciao posso un secondino così uno solo però spieghi ancora no perché ho ancora una camicia da buttare qua sopra e dopo fai un change of tea e ok come si bella con questa c'è una roba così a 20 euro siamo sicuri che l'ho prezzata così ormai ti arrangi ormai è a 20 euro perché è una roba di e c'è anche color cos'è un bigiolino no c'è color oro e color torto l'altro è un po' più oro è una meraviglia però dove devono scrivere le nostre amiche grazie come le meteorine come si fa il primo è quello che ha più pazienza sono gioco l'altra è la stronzetta lì dietro ma l'hanno classificata ricordiamo i prezzi 59 euro esatto ma non sanno che cosa ho indosso adesso prima la novità la novità del giorno la novità del giorno che cosa ho indosso perché mi stavo dimenticando che c'era la novità questo appena scaricato color vino beige un color biscotto meraviglioso e nero c'è una differenza fra i tre che il nero era finita tutta le copelle che queste sono le cose che succedono mentre si sapete che noi produciamo si può dire a chilometro zero a brescia siamo di brescia e produciamo a brescia con il nostro mese in brescia esatto il nostro cuoricino il nostro cuore quindi che cosa ha fatto avete visto che prima indossavo il tailleur che poi giacca gonna si spezza come? ad esempio così con questo gilet meraviglioso e questo diciamo giacchino vedete che è praticamente agli intarsi e poi lo andrò a mettere dopo sull'abito in bengalina è bengalina ed ecopelle quindi guardate l'attività di questo articolo ecco sì scherziamo scherziamo ma Simona non sta davvero bene prossimo giro dillo ad alta voce Simona quando arriveranno le tute mi vedrete ci sarai tu nel video mi vedrete ci sarai tu nel video al prossimo giro bengalina vedete che ha anche un contrasto lucido opaco bimbe di tiktok bimbe da questa parte è una meraviglia sta sempre bene portato col biker sta bene portato in versione elegante e starebbe bene tu adesso ce l'hai nell'altro colore dove sarà finito il nero adesso no te lo andavo a prendere ma tanto ce l'hai nell'altro colore quindi nero biscotto e vino che è meraviglioso cosa ho pensato di fare quindi 89 euro ricordiamo quando tu mi fai questo segno il curicino dalla 40 alla 54 ragazzi grazie oggi avevo voglia e bisogno di un supporto no diciamo che abbiamo detto facciamo un video diverso non facciamo vedere tantissimi cambi ma poi ci facciamo un giro in negozio così prenderete in mano il telefono quindi che dire di questa meraviglia 89 euro e lo andiamo a buttare su tutto quante donne ci sono ci sono qui di fuori non avevamo un appuntamento da Gabriele questo questa meraviglia è il nostro gilet in punto milano in diagonale che ha praticamente questa vedete questa questa lavorazione questa righina facciamo vedere qui così vado e portato sopra quindi questo gilet ragazze si può praticamente abbinare e con il suo pantalone e con la sua giacca abbiamo le varianti in taupe in nero in panna ma quando prendiamo un articolo così possiamo sempre dire sarò ripresa tutta si facciamo così eccola il mio braccio destro il mio braccio destro perché fantasia sono due sono due allora sì allora il bicolore lo definiamo così sono due ok che starebbe bene anche poi 40 e 54 dai si a parte si qual è il problema lo dobbiamo vestire tutte sono più felici le nostre amiche morbidose che non troverebbero questi capi nella 54 neanche pensare di farli fabbricare perché pensare di avere lo stesso articolo provalo pure sopra che è bellissimo quindi questo che indosso io è una taglia 40 il giacchino taglio oggi io viaggio a taglia 40 si vede che effetto effetto sì sì lo puoi fare tranquillamente perché tu te l'hai citato consideriamo cate abbiamo 124 certo bisogna dirlo se no ragazze posso indossare anche la 50 però se deve essere una cosa giusta no diciamo alle nostre amiche questo io metterei 54 di questo esatto che taglia hai preso invece questa 54 ah ok ed è perfetto sì 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 perfetto questo io starei sulla 58 considerando che sotto la camicia bisogna non abbiate paura a scegliere le misure in più meglio io potrei mettere anche la 42 come dice l'antonellina però a me questa guida mi piace portata così in gilet vedo che la 40 è perfetto no e il giacchino sopra lo era anche quindi 69 euro 59 euro e 89 euro il giacchino e sarà in tre colori esatto quindi se io ti lascio un attimo mettati i districhi e non so che cosa stavi ancora raccontando racconti qui i prezzi che ci sono i prezzi io li ho detti 89 69 59 la giacca in ecopelle che ho tolto che potrei mettere anche qui sopra al posto del giacchino era 109 euro esatto vado un attimo quindi a questo l'avete visto perché voglio provare la camicia due fantasie la mia è di Gabri dopo ci sono tinta unita che è nera taupe che è il famoso tortora e panna cioè deve venire la panna giusto il pezzo è tutto uguale il pezzo è apprezzato 769 euro rimane tolgo il mio che così lo metto via ragazze che non era previsto vediamo due secondini il cuoricino ragazze dalla 40 alla 54 così vedete dove mi arriva al lato B twin set due pezzi 79 euro colore nero vino blu e bianco giusto sono quattro i colori si può portare tranquillamente così dietro una bella lunghetta poi c'è il pantalone che è a palazzo sempre 54 perché lo voglio comodo non mi interessa poi c'è la catenina di bellezza 59 euro e c'è nero e beige e c'è anche sigaretta rosso cosa? rosso è anche rosso scusate però c'è anche blu anche blu però senza metterci la giacca sopra senza la giacca sopra perché abbiamo avuto un problema col bagno di colore però la giacca blu dovete metterla col jeans e sta da dio ok? cosa vi devo raccontare ancora? la tua vita è da fare comunque a ricordare tutti i colori tutti faremo mille borse ragazze mille stole tutto e tutto e tutto di più esatto esatto voglio dire non è che siamo nate imparate quindi anche preparate imparate ok? puoi dire le tue misure? sono 124 106 le prese nuove? no fanno bene poi da settimana scorsa che poi erano due settimane fa erano due settimane fa amore da che vado a prenderle? a chi ti le paro? non mi difendi mai da che saranno anche diminuite? sì sì posso andare a prendere il centimetro? posso dirti di no? posso dirti di no? no non può dire di no no perché l'ha chiesto Barbara Barbara ma c'è il whatsapp il primo il mio scrivi scrivi se lo dico in privato signori uomini se ci sono non volete sapere la misura di calda tanto le mie le sanno tutte vado a prendere il centimetro un attimo da pure ricordi il cognome di questa per favore gentilmente ah è la mia temore ora è già anche il mio tesorino no non va bene così Barbara dalla mia parte però la Barbara è venuta a trovarci in negozio sabato scorso con il suo marito bellissimi la mia barbarina abbiamo anche i quadro occhi qua perché ti devo misurare devo avere anche la visione giusta la visione giusta la visione giusta la visione giusta hai detto che ti iscrive ma ormai è troppo tardi vieni dietro un canto che si fa forato ecco c'è anche soddisfazione che anch'io non so ecco bisogna dire che non hai sotto il nostro body che oggi non sapevo non ha avuto voglia di quindi tu devi considerare quello che dici si 124 che il body ti sosterrebbe e unirebbe il seno quindi ti ridurrebbe la misura perché ti alza e sostiene così spieghiamo l'effetto che fa il body invece di essere più basse e più larghe diventano più strette e più alte quindi va bene il 124 vada con la vita andiamo con la vita la vita le bella le bella le bella cosa avevi detto tu aspetta il 106 le ha presa lei ce l'ho segnato se l'ho presa io se l'hanno sbagliato io te l'ho presa aspetta che vado a vedere si si ci siamo ancora Cate uguale uguale fianco direi anche è il mio crucio ragazze no 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 tappatevi le orecchie no 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 non è il crucio di niente però è giusto farlo sapere alle clienti 130 cos'era però non sembra eh ragazze cos'era eh adesso stanno a riscuperare il messaggio ma 130 130 però è voglio dire è il troppo però se la scuola guardate ragazze non si vede se ve lo dico io non si vede vedono anche loro che non si vede quindi dov'è la magia dov'è la magia la magia la magia è nei capi cioè è nei capi la magia tanto adesso l'abbiamo detto Simo la magia sta anche nei capi tolto la la sciarpa sta nei capi perché basta indossare quel qualcosa che faccia nasconda il punto giusto come vi dico sempre Cate dovrebbe mettere in risalto le garbe la caviglia scusa Simo c'è Laura che dice e grazie per avermelo ricordato perché io non me lo ricordavo un augurio a Simona per domani per il suo anniversario di nozze pensa una nostra amica della nostra grande famiglia io non mi ricordavo neanche io quindi grazie per avermi salvato ma non ti ricordate nemmeno tu ho salvato ho visto l'averla salvata anche domani dice il suo marito quindi grazie Laura che era il 28 sì per il gilet che state presentando come Laura sei fantastica però ecco dai lasciatemi aprire una parentesi siamo non siamo una grande famiglia cioè capito uno che si alza il mattino nel fare colazione o nel arrivare a casa a pranzo dal lavoro ci sediamo di tutte come è andata come non è andata sì io ho dovuto insistere con Simona mi ha fatto girare scatole invece la mia carta mi ha appoggiata ed è qui con noi e invece io sai arrivo ma sai ti ricordi che domani è l'anniversario della nostra Simona cioè come se noi bla 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 fossimo ho questa immagine di questa grande famiglia che tutte ci pensiamo perché è così cioè ma ora io non ho parole infatti sono stupita io non ho parole amiche di TikTok amiche vostre diciamo dall'altra parte voi siete appena arrivate probabilmente poi girerete dove girerete su la pagina Gabriele Sti Abbigliamento Donna anche perché finita questa diretta trovate subito immediatamente la differita di là perché su TikTok non rimane quindi entrate anche voi in punta di piedi nella nostra grande famiglia come ho fatto io quattro anni fa ormai quasi quattro e mezzo perché era così sono arrivata lì oramai sono da voi come se fossi davvero una di voi e questa è tanta roba parlo sempre al singolare ma è ovvio che io sono una di voi quindi è tutto è vero riportato anche su di voi dimmi sì quindi sempre Laura oltre che a ricordare cioè a farmi gli auguri chiedeva il gilet che state presentando con misure 145 118 127 può entrare con la 54 grazie 145 di seno le ha girate giusto 145 118 127 no amore perché la carta è appena provato il gilet come vedevate puntava leggermente anche se è molto elasticizzato potreste anche stirarlo col ferro per largo perché a volte questa cosa le insegno quando vi tira qualcosina ma lei ha 124 di seno è un 145 non ci sta nel gilet a meno che prendiamo un gilet a meno che aspetta un attimo Marisa ieri ti è arrivato è partito l'elastico vero? per allargare la cintura non è ancora partito il suo pacco è lì però parte partirà quindi ti manderemo l'elastico per allargare la cintura quindi posso sostenere un attimo ecco vedete che ha una cucitura centrale perfetto allora basta solo un po' di fantasia potreste aprirlo e far inserire una fascia di tulle una fascia di elastico un pezzo qualsiasi di bengalina che è elasticizzata perché come vedete tutti i nostri capi si alternano tra fasce non fasce questo ad esempio vedete che invece è tutto ecopelle cioè tutto fa potrebbe essere partito mi sta dicendo che i fianchi sono 145 quindi immagino che 127 sia il seno se lo leggiamo al contrario ci sta perché lei in questo momento non ha il body se tu mi metti il body sotto io ti dico di sì perché le tue poppe andavano leggermente sul largo con il body si contengono poi dipende anche diciamo il tutto la schiena e tutto però il 127 ecco perché ho chiesto ragazze quando ci scrivete le vostre misurine ok partite sempre dal seno vita e fianco e non al contrario infatti io ho avuto subito l'impressione che c'era qualcosa che non andava quindi circonferenza seno 124 circonferenza vita 107 106 circonferenza a fianco 130 giusto? esatto poi lei è magrissima sotto perché bisogna anche dire che dei nostri pantaloni metti in questo caso hai la 54 sì perché il pantapalazzo perché il pantapalazzo però come tante di voi o soprattutto come tante di voi che hanno le gambe piccole poi come lei essendo molto elasticizzati prendono a tale meno ma lei quando vi deve consigliare o io stessa tutte noi facciamo riferimento anche alle nostre di misura quindi quando tu hai una cliente giusto Cate? sì sì è vero e consigliamo anche e soprattutto importante come lo volete portare perché però tu hai l'esigenza che hai la gamba asciutta esatto Simona la coscia più grossa di te di conseguenza deve mettere la misura in più di calzone ma proprio una persona di anche a me non andiamo a parlare di loro morbidose che magari può dare fastidio ma è giusto per far capire io l'Antonella non so perché mettiamo una taglia diversa in certe cose ma quando lei mette i calzoni non li riempie mai può mettere anche la taglia in più può mettere anche potrebbe mettere anche una taglia in meno ma le gambe che sono proprio delle silhouette, io le gambe invece che sono muscolose, corpose, tornite, quindi io rientro i pantaloni, giusto? Quindi a me piace mettere una 42 di pantalone piuttosto che la 40, lei potrebbe mettere anche una 40 e fare come te, perché chi ha le gambe più asciutte, ma ditele queste cose quando ci scrivete, perché ragazze, noi lavoriamo in questa maniera, cioè possiamo dire veramente, veramente professionali, ecco questo bisogna dirlo, ok? Vuoi andare a cambiarti tu un attimo? No, no, questa la lascio, prendi anche la giacca, così fai vedere, ma vedi lì forse il giacchino già da fare a vedere lì sopra, facciamo dei change veloci, quindi dicevo alla nostra amica, vedi chi ha la cucitura centrale dietro, e in più ha anche le pens che sono pens sartoriali, bene, sono chiuse, non sono tagliate, quindi si guadagna già un dito da una parte e un dito dall'altra, per il punto vita, se poi una questione di seno ti tirasse leggermente, puoi far inserire una qualsiasi cosa dietro, ecco io dico che queste riparazioni dovrebbero essere abbastanza anche all'ordine del giorno da fare, senza nessun problema, quindi torniamo a spiegare quello che io indosso, poi se avete delle domande sono qui a rispondervi, sapete che cerco di farlo sempre nei dettagli, giacchino 89 euro, bellissimo, meraviglioso, in ecopelle, elasticizzata, quindi lo possiamo utilizzare anche come sotto per fare la manica a quello che non c'è, quindi agli abiti, a tutto quello che vogliamo, se avete delle canote nei vostri armadi, ok Vimbe? e poi ad esempio sopra questa camicia, sempre con la base per dire nera, potrei mettere anche la gonna maculata, che ci starebbe molto bene sotto, quindi pensate che ragazze arrivano anche i calzoni, in quello scuba lì che è una seconda pelle, ma non vedo l'ora, poi ha detto che arriva anche in un'altra fantasia, però si non sbaglio, ecco, quindi, 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 camicia bellissima ragazzi, io questa non so se l'ho indossata, forse è questo colore, non lo so, comunque vi dico che il tutto parte dalla 40 per arrivare alla taglia 54, ok? Bene, la vedete indossata, la vedete indossata, vedete che io adesso ho cambiato stile, ho cambiato forma, c'è la punta senza battare il pavimento, se non vedo che hai buona osservazione, giusto per farvi vedere come cambia una gonna da un tacco a un biker, lo possiamo portare in qualsiasi versione, anche con una ginnica, con una sneaker, siete voi a scegliere il vostro look giornaliero, non so, voglio a questo punto prendere e mettere la cintura, prendiamo e mettiamo la cintura, a chi piace la cintura la possiamo fare in questa maniera, io adesso, vabbè, ho la scarpa quella, vabbè, ma pulata, ma ci sta comunque, non è un problema, stringiamo leggermente, chiudiamo, parte il cartellino, vedete che questa camicia sta benissimo, è anche portata praticamente così, ecco, a me piace che le gonne seguano un attimino, come dice la vostra Gabri, cosa? In-ciu-ci-ate. Adesso un secondo sparisco dalla visione visuale delle nostre ticocchine, per andare a far vedere i nostri body, che in questo momento Kate non ha voluto indossare, perché eravamo in ritardissimo, io l'ho indossato abitualmente e l'ho nero, questo, vi dico che ha il ferretto, costa 43 euro, è imbottito, ma non è un imbottito, è proprio come lo spallino, vedete, quindi prosegue, ma è molto importante, perché vi definisce e delinea la forma, credetemi che è importantissimo, se non l'avete ancora provato, provatelo, assolutamente sì, i colori, secondo me, più in auge in questo momento, in questa stagione, facciamo il nude e il nero, per le amanti del bianco lo abbiamo anche bianco, se eventualmente mancasse qualche taglia, è solo perché manca anche dal fornitore, ma è presto, presto in arrivo, quindi, che dire, già che siamo qua, proponiamo questo manichina, sta arrivando la nostra calda, quindi ti aspetto e facciamo vedere, ho una versione un pochettino più sportiva, così vedi, brava, ma questo è il tuo calzone che avevi indosso oggi, questo è il bengalino nero, e guarda come sta bene con lo stivaletto così, vi ricordiamo che questo pantalone in bengalina, cosa abbiamo Kate, è di uguale, in abbinamento, in abbinamento della zampa, Sì, zampa, giacca, abito, 119 euro la giacca e 69 euro il calzone, lei in questo momento è il suo, lo indossava di suo, quindi... 109 la giacca, 119 la giacca, in, diciamo, bengalina, dove la giacca? Non sai che sto pensando che per me è 109, 109 secondo me, un attimo di scuba nero, peccun e neocardà, lì dove sei tu proprio adesso? No, cerchela che è blu, uguale, blu nera, basta che guardi il prezzo, certo, giusto, proprio a me è 109, no, come sempre, come col cavolo, perché c'è un 219, no, ma dov'è scusate il completo nero? Posso saperlo, ah, è di là dall'altra parte, cambiate un po' tutto, ma dov'è il completo nero? Avrà messo, avrà messo, non abbiamo il completo nero, è là dietro il cardigan, prima dalla porta del magazzino mamma, dietro il cardigan, no scusate, ah, bici, rosa, petalina, hai visto Kate che fai la modella? Sei bellissima, ti voglio bene, tu non sai, tu non puoi capire, bisogna dire che tiene anche molto caldo, vero? Sì, stiamo sudando i baffi che non ho, allora, lasciamo stare la blu, che comunque la bingalina è questa, l'abbiamo ritagliata, comunque 109 la giacca, onde, sì, e cos'è, 119 scusami, è lo scuba, è immaculato? Sì, e anche il pet pool nero, che arriverà anche con lui, ah ok, perfetto, quindi tutte le giacche 109, esatto, perfetto, i pantaloni 69, l'abito 89, questo lo ricordo, adesso vi indosso io, visto che ho la gonna, la gonna nera in ecopelle, possiamo far vedere, c'è questa giacca indossata, quella blu che taglia è? quella blu che taglia è? vorrei ma, è 42 more, vorrei ma non posso, solo 54, facciamo vedere, ricordami questo, perché appena appena arrivato, era 189, 89, con il pelino, tiene caldo, pesgnare, face face, 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 tiene caldo, fesgnare, ragazze, tiene caldissimo, traduciamo la nostra camera, dove, magari siamo fuori, no, ci siete, perfetto, quindi posso, mamma ragazze, si ma anche perché questa camicia poi è fantastica, si, cioè davvero eh, guardate che non sembra ma è così, 89 euro si la taglia 40, anche la taglia 54, non confondetevi, anche questa taglia 54, spiego un attimo che cosa ingossi, ma io che la faccio? Tanta non è sigaretta bengalina, il mio taglia 50, perché io me lo voglio bello, giusto in pancia, e con le gambine, ci siamo, questa camicina, ricordano di questa? Eh perché così vi faccio vedere anche le picocchine, no? Sì ma è, non li vedono se no, è come se io facessi, è la compagnia che guarda di là, quindi io capisco che di là non ci sono, ci siete tutte e due? Siamo qua che ci vedono, siamo qua, perché si fa prendere dall'enfasi del momento, la rossa, tu vai avanti, poi magari ti taglia la testa, ti tagliano i piedi, dicevi della camicia? La camicia, questa qua è a 59, nera, 69, è 69 questa, oggi la Gabri, guarda, non ho tolto niente io, capito? Oggi la Gabri, allora c'è nera e bianca, abbiamo ancora qualcosa nel leopardato, che facciamo vedere dopo, ma sono due, 54 e 42, e c'è il jeans, 52 e 54, guarda, esatto, sì, e quindi, comunque, Maria Rosa, che bella la Kate, deve fare più spesso la modella, sì, grazie anche noi, e Patrizia, siete fantastiche, buongiorno, ecco, cioè voglio dire, avrò ragione di insistere, tra le altre cose, sono o non sono la titolare, cioè, dovrebbero fare quello che dico io, invece no, sono sempre io che faccio quello che dicono loro, perché funziona così, ecco, no, però, voglio dire, diciamolo che adesso, perché è una soddisfazione, sì, però diciamo che sarebbe anche, meglio di là, eh, mi viene l'ansia a me ragazzi, cioè, il prezzo di sua memoria è ovvio ragazzi, ma lo sapete, vabbè, allora il prezzo vi lascio dire a te, allora, un attimino che volevo far vedere, la giacca, ero andata a prendere, sì, guardate, cosa vuol dire bengalina, vuol dire questo, sapete che abbiamo, pantalone a sigaretta, pantalone a zampezza, sta ridendo, l'abito sotto 89 euro, è arrivato Edo, il top, quindi cosa devo fare Kat? Tira, tira i bottoni, ah, tira i bottoni, tira a te, tu tira di là Kat, che io tiro di qua, sei? Ci sono? Ma la morbidosa che c'è? Vai di là, vai in magazzino, è tutta morbidosa, infatti io le definisco morbidose, il suo Edo, ciao Edo, in pausa, quindi? Quindi, vado a fare ancora un change io, se proprio devi, dai che così tanto spieghi quella roba, così puoi avanzare, la roba lì, quindi 109, 109, colore, è nero giusto? Sì, è nero, nero, è seda altonica, taglia 54, la lunghezza arriva al lato bieto e lo copre giusto, ragazze, se copre il mio, copre anche il vostro, poi caramelline con le palle, perché si può dire, hanno le palle, se non è che sono quadrate, hanno le palle, quindi, fili da 8 euro, più che palle sarebbero esagori, però, esagori, lo vengono stesso, ma se, cacchio li vede di esagori, ma signore, ce sono palle, palle, mettere il bianco, che forse le vedete meglio, palle, faccia la fortuna, Gabriele, Sì, sì, va bene, poi camicetta 54, è morbida, ma io la voglio 54, non mi piace più piccoli, così, copre tutto, queste le abbiamo detto i colori, se non ve li ricordate, i numeri sono qua, ragazze, ogni ora scrivete altro in silenzioso, prima o poi vi rispondiamo, scrivete anche la notte, tanto, ma richiamano, poverine, silenziosiose tantissime, io sono una, è un pochettino abbondante, ma una, Gabriele, ma sei finita? Presenta le borse, ho tanti pezzi da infinare, 39 euro, fai il tiraggio anche della camicia, che capiscono che il tiraggio è, perché pensano sia un tessuto, se devo prendere, do non guardare, ci sono entrambi insieme a te amore, certo, prendo le coccole qua, fa caldo, borsa, 39 euro, io lo chiamo tra puntata, per far capire la trama, si vede, disponibile nei colori, nero, viola, perché deve fare lo screenshot, il bronzo, quello lo chiama taupe, questo lo chiama? blu che l'ha, blu la vedete dopo, perché non posso, ho due mani, c'era anche verde, e oro, e anche oro, e ora c'è il manichino, poi dopo la vedete, e adesso c'è là in mezzo la Gabriele, quella la facciamo vedere, appena torno io col telefono in mano, hai dovuto fare un change completo, mamma mia ragazze, guarda la cosa, ma ragazze, dai, dì la verità, che bello è questo colore, vino, 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 quindi hai spiegato tutto, anche i colori, anche le borsette, questa possiamo metterla anche doppiata, la tiriamo fuori, che meraviglia, io ho un giacchino, mi ricorda questo, un giacchino, Simone te lo ricordi tu, un giacchino così, con tutto il pelo davanti, che ti ho prestato, quando hai fatto la comunione, ti ricordi? Ah sì, quello tutto colorato, tutto pelo, la pen, toucher, sì, ma adesso, sto solo spiegando una cosa, che ho nell'armadio da, quanti anni avevi? Ebbè, se ho fatto la comunione, 13, 14, cos'era? Sono 25 anni fa, e ce l'ho ancora, e se io adesso lo vado a togliere, mamma, se ero brutta, me la ricordo con la foto, avevo i capelli, sembrava un ape, gialli e neri, avevi voluto tu, le mezze bionda, ma vedi come si è stata, orrenda, trovavo un ape, eri meravigliosa, no ma per dire che quel giacchino lì, eri, sì eri, in quel momento lo era, in quella versione, schifo, e per dire che quel giubbino, io ce l'ho ancora, ed è esattamente questa variante, quando vi dico, che le cose nell'armadio, non invecchiano, non prendono sempre il valore, mi sento che io salta nell'armadio un attimo, caspita, da l'unico invecchia mai, mai, liscia come un bimbo, cosa posso fare, se chi nasconde l'amante, io lo scordo il membroso, non è che faccio, e poi con il cane nell'armadio magari, ma tanto che rimane, rimane giovane, impeccabile, esatto, che stavo nel freezer, no poverino, però ci starebbe le dimensioni, un po' legale, sì perché Katia ha una prorogativa, che sceglie sempre gli uomini minuti, sono loro che scelgono me, bella questa, mi è piaciuta, in realtà devo dire anch'io, che non ho mai scelto un uomo, è l'uomo che sceglie me, sì, 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 è bello, sono bravi a corteggiare, è giusto cedere, giusto, dopo 30 anni puoi, avanti Savoia, hai spiegato che tessuto è, tutto, no tessuto no, da taglia in colore, è jersey, come si vedono le tette, le cicatrici, le tette soprattutto, è jersey, no, chiediamo alla nostra amica, anche se avesse 145, se non ci stava, guarda che, sembra che ti stiamo trattando, stai ferma, stai ferma, stai ferma, solida, solida, ti voglio solida, vedete che non è che sto facendo, chissà quale tiraggio, ma è che sto pagliaccia, dai, vai che io intanto spiego sta roba, quindi per dire, avete visto il tuo sito? Ma ancora insisti? L'avete detto il prezzo, è per te, Monica, che bella sorpresa Kate, sei super e ti trovo benissimo, brave ragazze, siete fantastiche, regalate una buona oretta di sane risate, con la Kate sicuramente, ragazze che non, che non, vi mettiamo in ritardo sulla tabella, di marcia per il pranzo, ma insomma dai ragazze, è l'1 e 10, penso che l'hanno già pranzato, sì ecco appunto, ma dai, 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 scusate, questi li avete presentati quando non c'ero, ok? Che cosa indossa la Gabri, Simo? Cosa indosso? Lo sbragato? Lo sbragato, esattamente, lo sbragato, che è super, super, super richiesto, questa volta hanno messo, una taschina da questa parte, le tasche, cioè ragazze, è una meraviglia, mi piace trovo questo completo, dimmi. Su TikTok, stanno chiedendo dove abbiamo lo store? Eh, lo store, lo store in negozio, appunto, lo store intende il negozio, no, perché alcune mi chiedono il sito, allora stavo riflettendo, siamo a Villa Carcina, in provincia di Brescia, ok? Abbiamo tante delle nostre clienti, oggi ne abbiamo tantissime che arrivano da fuori Brescia e vengono a trovarci, quindi escono all'uscita dell'autostrada di ospitaletto, prendono per la Valtrompia e arrivano qui, ma noi, anche perché omettiamo sempre di dire questa cosa, Simona, che facciamo spedizioni giornalmente, le nostre amiche, oramai della nostra grande famiglia, lo sanno, ma se voi entrate su WhatsApp, è qui che dovete andare, è qui che è il vostro calmerino personale, dite mi piace il copriato di Gabri, voglio quel pantalone nero, voglio questo gilet, voglio quello che è, oppure le mie misure sono queste, cosa mi proponi, noi facciamo come se voi entraste in negozio, e spediamo oggi, concludiamo il tutto oggi, perfetto, parte, domani avete i vostri capi a casa, ok? Stamattina ho sentito successo qualcosa, magari con me, domani è sabato, fa niente, no, domani è sabato, non arriva, c'è qualcuno che è andata a ritirare qualcosa, perché non arrivava, non lo so, per dire che ogni tanto può esserci un intopo del corriere, di un qualcosa che magari lì nella zona può capitare, noi vi assistiamo da questa parte, ma il tutto arriva sempre, anche perché una volta che parte il pacco, vi arriva l'SMS, che il pacco è partito da Gabriessa, e vi arriva un SMS, non su WhatsApp, un SMS classico, dove vi dicono, oggi è in consegna il vostro pacco, e voi potete decidere, in base ai vari puntini che ci sono segnati, se farvelo consegnare, se farlo consegnare il giorno dopo, se farlo lasciare da un'altra parte, questo è proprio per dare un servizio per tutto, adesso togliamo la borsa, sono andata a volerla mettere in 39 euro solo questa borsa, è una meraviglia ragazze, guardate il tessuto, è in bucle lisca di pesce, con il pelo in ecologico, e la catenella, che potete metterla doppia, semplice, come volete, quindi, sbragato 69 euro, ed è il caso di dirlo, io indosso una taglia 40, e devo dire che è perfetto, vedete che è super elasticizzato, perché è in bengalina, possiamo portarlo, e col tacco, in versione un attimino più femminile, e con magari una biker, una scarpa, anche quello che indossavo prima, più sportiva, che dire, questo è quel colore vino, che quest'anno ha preso piede, ma io vi dico, essere in voga da sempre, non c'è un colore ragazze, che non vada, e che non sia di moda, tutti gli anni, quindi voi fate la vostra bella collezione, nei vostri armadi, e dopo di che, ogni stagione, abbinate un pezzo nuovo, voi avete un look, sempre, diciamo, ammodernato, ok, non preoccupatevi, sono tutti capi lavabili, quindi tranquillamente, in lavatrice, e fate il vostro gioco, fate quello che volete, 89 euro il giacchino, io indosso una taglia 40, sì, stai bene, ma mettiti, sì, che giacca hai sopra? nera, formale, sì, perfetto, con la giacca, no, se metti la giacca nera sopra, è perfetta, metti anche lo stivaletto nero, Kate, che ti sta molto bene, e che dire, allora, la nostra, tra le altre cose, se vogliamo dirla tutta, abbiamo anche una pochette, sempre a 30 euro addirittura, che ha la stessa, diciamo, fantasia, scusate, scusate ragazze, che io con questo ti seguo, ma loro no, adesso dopo, appena quando ha finito Kate, adesso faccio fare più cambi a lei, quindi 89 euro, 30 euro, questa pochette, che è una meraviglia, che è proprio lo stesso tessuto della collana, comunque 20 euro, e questo che cos'è? È il gemello che indossava la nostra Kate, vedete, bianco, lo abbiamo bianco, lo abbiamo nero, lo abbiamo blu, e lo abbiamo color vino, quindi se voi voleste fare il tinta su te, lo potete benissimo fare, devo dire che è stupendo, tessuto manopesca, il giacchino sopra lo potete utilizzare, diciamo, per mettere su un qualcosa di smanicato, e cosa vogliamo dire? È un'altra alternativa alla versione dello sbragato sportivo. Colori dello sbragato ragazze, mi aiutate? Allora, vino, beige, nero, blu, rosso india, sono 5, ne avevo già menzionati, quindi fatti vedere, bellissima Kate, puoi portarla chiusa, puoi portarla aperta, tutto quello che vuoi, indossa la giacca in bengalina, che è jolly, da mettere sugli abiti, sui pantaloni sigaretta, sui pantaloni a trombetta, sui pantaloni sbragati, giusto, perfetto, che dire, la new entry, bellissima, quindi tu, indossa una taglia 52, questa, queste bene ragazze, è stupenda, è bellissima, poi magari puoi fare anche tu, si, si, puoi mettere su un pizzichino, tanto bello, l'ho messo 54, si, potete mettere anche la taglia, anche 52, non è, si, allora, avevo messo io la 50, di quelli, si, però, fa vedere, deve essere sbragato, io ho messo la 40, ma se mettevo, ma se mettevo la taglia più grande, andava bene, si, è un sbragato, non è un sigaretta, lo fanno, lo trasformano a seconda, se lo vogliono come il mio, prendo una misura più piccola, se lo vogliono più sportivo, come potrebbe essere un discorso tutta, un discorso più giornaliero, un discorso così, secondo me, potrebbe essere, tutto fa la calzatura e la maglia, esatto, quindi Kate, facciamo che vai a fare un altro, allora, aspetta un attimo, ricordiamo, la casacca che è arrivata ieri, che è stupenda, 69 euro, perché non ricordi, che è bellissima, lo sbragato 69 euro, e la giacca 99 euro, devo dire che, beh, molto bella questa fantasia, considerando che forse, la potete mettere anche sotto, la giacca maculata, sai, certo, perché sta molto, molto bene a richiamo, e tra le altre cose, credo che poi arriveranno anche qualcosa di questo, di questo color coccio qui, e comunque possiamo svelare che arriverà un tessuto, che si dice taupe, no, si dice, cos'è che è, scuba dici ancora, è scuba, ha un altro nome, è lo scuba, sì, è un tessuto, che se quello è, se questi sono una seconda, a pelle, quello lo sarà, vedrai, la mia fantasia, vedrai, adesso andiamo avanti, così che queste cose vanno portate adesso, i pesi sono quelli giusti, e via dicendo, 69 taglia 54, 69 taglia 40, il gemellino, hai ragione, è fantastico, 79 euro il gemello, i due pezzi, 69 euro la camicia, 99 euro la giacca, 89 euro questo, direi, vai a fare un change, così poi ti lascio, che è un change doppio, perché hai la camicia, il tagliore, poi anche il giacchino sopra, così poi Kate, passa alla ripresa, e poi ci muoviamo a far vedere, i capi appesi, e via dicendo, ho qualcosa ancora anch'io, però da mettermi Kate, quindi ti metti un change, e poi vado io a mettere, l'altro colore, perché voglio farvi vedere, considerando che, vi ripeto, tutti questi outfit, possono cambiare, e ruotare, nei vari colori, quindi vi dicevo, il gemellino, nero, bianco, blu, e vino, quindi, i calzoni sono 5 colori, gli accessori, abbiamo di tutto e di più, pensate che abbiamo addirittura, adesso mi avvicino qui, questi fiori, che sono praticamente, se vogliamo dirla tutta, quasi lo stesso tessuto, non nascono insieme, ma possono diventarlo, diciamo, della borsa, della collana, e se vogliamo, per dire, completare, quello che può essere il giacchino, con un accessorio a 10 euro, vedete, il tutto avviene come per magia, anche da abbinare, sulla giacca maculata, vieni, ho due domande, una di Monica, che chiede, se potresti indossare, sotto lo sbragato, una scarpa da ginnastica, per vedere l'effetto, e Katia, invece, che chiede, se il gemellino è elasticizzato, no, il gemellino è in tessuto, delle camicie, ma non è un problema, perché hai visto, questo è proprio, facciamolo vedere, proprio la camicia, proprio, confortevole, ma, vediamo, così ce la facciamo, ecco, proprio il tessuto, delle camicie, di conseguenza, delle camicie, non in cotone, ma in tessuto, manopesca, quindi, adesso vado a indossare, sì, che cosa indosso, ma non ce l'ho, non posso indossare la ginica, perché ho il biker oggi, quindi non ce l'ho con me, ma, adesso ancora lo sbragaccia, ma lo puoi, no, vabbè, ascolta, nel prossimo giro, lo vedrai, è semplicissimo, io posso anche togliermi, il pantalone, e con un po' di fantasia, il pantalone, la scarpa, facciamo vedere, che possono, puoi mettere su le mie, sono al 40, ti vanno? sono al 40, ma non credo, dammi un piede, dai un piede solo, tutto per accontentare, che piede mi dai, tutto il piede, c'è il volo, lancio della scarpa, in diretta, non so se ci sto, è un 40, è un 40, vediamo se ci sto, aspettate un attimo, cosa mi fate fare in diretta, vabbè, ci sta tutto, ecco sì, allora va bene, aspetta, che mi appoggio qua, perché ragazze, la vostra Gabriee, è natata, c'è natata come i giochini, che ho nell'armadio, non pensate che sia, baubau micio micio, c'è 61 anni suonati, tra un po', sono anche 62, quando arrivo, vuoi anche l'altra, vuoi anche l'altra, no no, basta, tanto per far vedere, che qualsiasi cosa si faccia, c'è che metti il biker, che metti la genica, che vai a piedi nudi, che metti lo stivaletto, che metti quello che vuoi, va bene tutto, faccio il fenicottero, e poi vi mando anche, un bacione grande, quindi che dire, che dire, che dire, trasformate, sto pantalone, e poi, cosa vogliamo dire, vieni pure, cioè ragazze, guardate qua, ho guardato, era un 50 il mio, avevi ragione, il mio spragato beige, era una taglia 50, ah, era un 54, comunque era molto ampio, lo stesso, però io lo porterei così, sì sì no no, non almeno, non almeno da un 50, assolutamente, allora aspettate un attimo, che io mi rispoglio, me lo dicevi, li avevo io per me, sta bene, ma non l'hai sentito, mi volano scampette, allora, facciamo che siamo, le cenerentole di turno, arriverà il principe, io aspetto il principe, sta nell'armadio intanto, ah sì, tu hai il principe, hai un altro nell'armadio, no no, quello metto, tappa le orecchie, quello metto nell'armadio, ah ok, nella nartalina, poverino, poverino, io vado a cambiare, un secondo, l'importante è, che non lo metti sottovuoto, se no, non lo ritroviamo più, quindi, stola, 20 euro, sono fatte rispettare da queste donne ho tratto benissimo io non mi piace l'idea almeno sotto vuoto non possiamo mettere gli uomini sotto vuoto certo che possiamo fare e poi li apriamo in base alla necessità diranno le nostre amiche se vuoi inquadrare poi dopo le altre c'è ancora qualcosa questa vi ho fatta vedere prima come fantasia Monica ti ringrazia dal cambio scarpe chiedono che taglia portavi dello sbragato 42 e adesso vi dico le mie misure così le sapete e siamo a posto giacca da 99 euro questa nel blu quella di prima era nera poi c'è vino rosso verde magari non tutte le taglie ma voi chiedete ai numeri che vedete si vede Simo? si 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 è assoluto perché questo telefono è più scuro sembrava nero ecco non ho il blu blu ragazze tanto la tolgo 99 euro bengaline quella di prima che si tira si mina su tiktok chiedeva se possiamo far vedere la gonna nera col tulle sotto si te la vado a prendere guarda appoggio qua un secondo esco vado a prendere scusate allora al momento sono al taglio quindi ho qua 42 e 52 però arriveranno di nuovo arriveranno sono al taglio anche verde con il tulle nero guardate se si vede una di qua una di là sempre bengalina quindi come la mia giacca con la nera di prima tulle sotto favoloso non è tutto non è il solito tulle quello bello del made in brescia 79 euro tu che cos'hai adesso? il pantalone a sigaretta no io in teoria da mettere su no dico tu adesso hai il pantalone a sigaretta blu si la camicia come quella in fantasia si prenda nell'azzurro colpizzo ragazze perché io solo ci sono colpizzo ecco perché il body è liscio non sapevo ragazza e va bene così venga da destra signora metta la frezza anche 52 per la manca si ma capite cosa vuol dire l'intimo liscio da buttare sotto a tutto si è proprio quello se lei avesse il body nude è stata un'improvvisata questa quindi di conseguenza sostituito all'ultimo secondo Simona non avrebbe la trasparenza non dico la trasparenza il lavoro e facciamo vedere nuovamente il body per far vedere che non è è chiuso è tutto coprente vedete ragazze cioè liscio liscissimo a 43 euro indosso una quarta coppa B poi c'è più profondo per chi ha più seno coppa C io sto indossando praticamente la giacca che abbiamo lo stesso completo abbiamo lo stesso quindi il nero ce l'ha lei lo mettiamo giù si il nude e il bianco il bianco l'ho già fatto vedere prima 43 euro seconda terza quarta quinta sesta coppa B seconda terza quarta quinta sesta coppa C ok esatto e beh tu adesso puoi star qui perché tanto hai solo l'unico se vuoi vado a prenderlo intanto che finisci anche nella collana si si questa collana è a 20 Katia mi ricordi si ma penso proprio di si dai una controllata c'è blu c'è verde guardate questi cristalli che meraviglie che sono vedete io adesso indosso la taglia 42 anzi perché la 42 perché la portata su Ale perché io ho la 40 di questa giacca a me sta grande ve lo dico subito di conseguenza metterei la 40 che però è lì va bene dimmi su Tik Tok Mena che abbiamo fatto appena vedere adesso la gonna col tulle mi chiedeva in che colori la stanno riproducendo c'è in bengalina che è questo tessuto super elasticizzato dalla 40 alla 54 c'è beige che è il beige che hai visto finora e nera beige con il tulle beige e nera con il tulle nero è in arrivo verde esattamente questo meraviglioso quindi se voi fate questo completo abbiamo anche l'abito un secondo che me lo vado a infilare così lo faccio vedere e potete poi mettere la gonna in arrivo verde dalla 40 alla 54 che costerà sempre 79 euro sotto avrà il tulle il tulle non è quello dei confetti il tulle è viscosa il tulle è una maglina traforata è tulle ma un tulle morbidissimo capite e arriverà verde con il tulle nero bellissima stupenda questa borsa meravigliosa imbottita la vogliamo ce l'hai anche tu perché c'è anche blu sa che io non ricordavo ho rubato anche la collana ragazze così siamo simili dai brava che bellissima puoi portarla anche aperta guarda che meraviglia non avevo mai messo questo sembra la fatta turchina te lo devi prendere sei bellissima esaudisci i miei desideri che soddisfazione ecco quindi traduci traduci si sprigiona il mio bresciano mi arrabbio sì 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 il caso di dirlo dica dici dici Cristina chiede il prezzo del completo verde allora il prezzo del completo verde ve lo dico subito perché poi qui possiamo erondata per addobbare sapete che a me piace possiamo mettere la piumetta a 10 euro possiamo mettere solo metto da questa parte ovviamente scegliete uno l'altro però giusto per farvi vedere cosa possiamo fare una meraviglia ho messo il pantalone a sigaretta perché finora mi ho fatto vedere quelli a zampetta che c'è a 59 euro ok io indosso la 42 di pantalone perché come dico sempre non riempio di gamba potrei fare anche a meno cioè sopra però avendo la gamba più tornita io voglio la 42 non voglio che mi stia più stretto di così anche se mi starebbe giacca a 42 mi andrebbe bene a 40 quindi io ho 93, 78, 77 e 96 di vita è inutile però se volete che vi faccia vedere a prendere misura me lo dite che all'ultimo giro quando indosso l'abito ve lo faccio vedere quasi quasi non metto l'abito verde ma lo vado a prendere e lo faccio vedere perché è così è vero tanto tu spiega allora questo era 139 139 ragazze sull'urex io credo che non si veda di solito non si vede si no si vede perfetto questo è un urex manichina così adesso io ti tolgo giù la camicia ma se la metto giusta così vedete anche la lunghezza dietro sei bellissima la mia collanina rubata l'agricoltura perché l'ho vista lei io non so come fanno le nostre amiche a trattenersi anzi non si tratterranno vedrai quante richieste perché cioè forse sono abituate a vedermi e poi come dicono loro 42 42 ma vederti così nella taglia 54 52 la casacca 52 si non so cosa mi hai messo 54 la fatela bello si perché dopo è morbido puoi avere anche un maglioncino puoi avere anche una giacca io ho fatto puoi mettere la giacca blu non la vedi metti sotto la giacca blu e metti il maglioncino sopra il giacchino che bello avere le caramelline ecco capito allora questo punto di questo taglio tornando alla nostra amica c'è la giacca 99 euro dalla 40 alla 54 c'è il pantalone a sigaretta c'è il pantalone a zampetta e c'è l'abito stratosferico che indossavo nel beige simona dopo magari quando facciamo in giro facciamo vedere gli omini che dice il beige a 89 euro 39 euro meravigliosa meravigliosa scusate taglia 54 sono i tuoi capelli sono allergiche no vabbè c'è quello in bocca i capelli sono allergiche hai visto che volavo mi metterai la moviola me le tatterei anche in testa così metteci trucco fa anche le polveri manca solo quello tutto in uno manca solo quello siccome non ne faccio già abbastanza di cose insieme mi ci manca anche di mettere la piumetta e poi di andare a fare le polveri sa chi deve pagare la governante ecco c'è bella idea c'è capito le mie ragazze qua cosa mi fanno fare siccome sono una che fa dieci cose insieme non si vede direi proprio di sì vabbè dai mettiamola qua mettiamola dove vogliamo comunque ragazze se avete qualcosa da chiedere adesso però lo chiedete su whatsapp quali numeri dai che vado a cambiare prego prego vada numeri spiega bene cosa devono fare cos'è il camerino cosa fai quando ti scrivono cosa fai non rispondo magari no no ragazze voi scrivete mi raccomando nome cognome non ci serve per il momento magari se ci scrivete anche da che regione venite così noi già vi diciamo tutto modalità di pagamento tutto quello che vi può servire su whatsapp noi vi rispondiamo magari non subito perché siete tante gioie però noi ci siamo dimmi tutto mena chiede se facciamo pagamento alla consegna mena certo che sì ripeto se non sei già scritta qua dentro uno dei due numeri mi raccomando ragazze uno anche se l'altro magari non risponde subito perché ci vuole tempo a fare le cose fatte bene giusto e quindi niente lì ti daremo tutte le info tutto quello che vi può tutto anche le foto non c'è problema la stefi vorrebbe che indossassi quell'abito lì quale abito? mamma mia stefi non so come siamo essi con la diretta gabri lo indossi tu il tubino? sì ma la stefi lo vuole vedere indossata a te lo sto indossando io perché l'ultimo cambio perché dobbiamo chiudere la diretta per quello che io chiedo perché abbiamo dei tempi lo sto indossando io quindi stefi ti mando una foto in privato che colore vuole che te lo indosso che ti mando una foto colore lo vuole ho il blu intanto la metà non saprei non saprei che colore lo vuoi stefi che ti mandiamo la foto su whatsapp in privé voi chiedete che ogni tanto io spesso provo la roba vi faccio le fotine non è uguale vedi la gabrile vedi me quando non mangio sono proprio la gabrile non è che mi sono messa a metà sono tranquilli voglio vedere queste cosine qua anche noi si dai non hanno il pelo ce la puoi fare ci sono le spellettine faccio vedere dietro la mollettina che puoi mettere nei capelli anche nella collana volendo non è che ci sta tutto dipende dove la mettete abbiamo vari colori anche le piume voi scrivete che vi giriamo le foto per tutto la stefi dice o blu o verde va bene blu ce l'abbiamo e te la faccio ti giro la foto dopo la pausa pranzo poi intanto bevo un cappuccio ah non glielo provi ho tanto glielo provo su quello lì così si provaglielo tanto vai guarda che sei tremenda si veramente tremenda tutta tremenda senza body questo aiuto panico si va bene mi mettevi il body così vedevano la trasformazione non ne fa niente tieni su la giacca ti va dentro la pancia fai quello che vuoi non so respirare praticamente muori lì si sapranno esattamente cosa la differenza che è io ti farei fare guarda la prova prima e dopo si si prima e dopo la cura se io oggi avesse un intimo normale qui sotto si vedrebbe il taglio di dove arriva lo slip si vedrebbero tante cose mentre invece questo body cosa vedete cosa vedete qui non vedete nulla vedete cioè non vedete nulla ed è perfetto è perfetto questo abito poi tolgo il giacchino voglio farvi vedere questa borsa a 30 euro che è una meraviglia sì volete mettere poi le cinture in vita perché potete fare anche quello sì 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 si può fare tutto avete magari una vita dove non so magari un giorno mettete una calza e quindi vi da poi io non le metto mai però voi le mettete un collant quindi qui taglia un pochino potete tagliare e mettere una cinturina così in maniera che va a pareggiare quello che può essere un segno allora abituatevi a guardarvi allo specchio e vedere la perfezione i nostri abiti vi aiutano a fare quello i nostri capi li aiutano a fare quello indosso una taglia 40 di questo abito lo ripeto in super bengalina quindi questo è il giacchino che è arrivato questa mattina che beige e vino è tutto in ecopelle ok beh è nero invece è fatto con vedete la bengalina che è lo stesso mi vedo la mia amica sì lo stesso tessuto dell'abito quindi abbiamo un completo se poi io qui volessi mettere la giacca nera ci metto la giacca nuova se voglio prendere per dire la giacca rossa giusto per dire faccio la base ho un po' freddino questo tessuto magari non mi basta va bene lo tengo sotto guardate qua mi metto la giacca rossa che dire tengo questo magari sposto il bavaro così e che dite è sempre lo stesso tessuto questa collana meravigliosa 25 euro stupenda che potrebbe quasi andare a richiamare l'inizio per cui sono partita vedete che si fanno altri diversi in base a tutto quello che più vi aggrada come vi sentite come vi vogliamo mettere vedete ho messo la giacca vogliamo mettere la stola con i cuori mettiamo la stola con i cuori mettiamo un fiore mettiamo in primis mettete a voi stesse la vostra solarità la vostra personalità guardate che anch'io ho i miei problemi ho anche io tutte le mie paturnie anch'io mi piaccio solo con una cosa né più che un'altra ma quando alla fine metto un articolo dico ecco questo cioè è la perfezione perché guardo una cosa guardo un dettaglio guardo l'altro adesso non abbiamo guardato nulla perché vi stiamo provando le cose così casualmente capite quindi prendeteci per buone ragazze e poi andiamo a fare un giro dei dei io adesso wow io quasi quasi me ne andrei mai tirare io me ne andrei signor Steffi cosa basta non devo aprire lasciatemi stare ma figurati perché non devi aprire ma sì perché abbiamo la mutana guardate ma la mutana c'è la panza c'è sta no 52 54 l'altra parte Katia aveva un problema che ha cercato di pian pianino non ci vuole tempo ragazze di trovare un rimedio però comunque dai poteva stare peggio sì se mettevi il body stava peggio né no ma dagli ragione questa donna qui che brutte cose perché lo sanno che ho ragione ma il trattamento ce l'ho secondata comunque non si nota nulla da qua Katia ma lo sanno che ho ragione lo sanno che ho ragione se tu che c'hai le fisime ma questo proprio donne body 39 euro eh oh si stanno la metto qua anch'io allora ma si ma ascoltate siamo adesso siamo donne oltre alle gambe c'è di più meno male quindi che dici vediamo che lo trovano di più eh lo trovano certo che lo trovano di più può essere intelligenza di più può essere femminilità di più può essere simpatia di più c'è quella più simpatica quella più antipatica che magari con i nostri capi gabrieste diventa simpatica simpatica basta che una Simone è antipatica quando vuole quella è figlia tua ma perché dovete sempre prendere meno non ho capito perché quando vuole sai essere molto antipatica quando invece vuole stress sai essere molto simpatica certo ecco se vestisse gabrieste secondo me sarebbe ulteriormente simpatica no se mi appariva arriverà qualcosa che lei potrà indossare sarà felicissima di indossare cosa sarà le tute oh mamma si la vedo la vedo la vedo per me è un corno lei fa però invece no invece ci siamo è sicura gabrica magari ci siamo proprio messi lì io e il suo papà perché arrivava la sua arrivata la sua cuginetta quindi abbiamo detto sai com'è ti viene voglia no quindi dice proviamo mettiamo in cantiere io avevo 24 anni il suo papà ne aveva 27 ci sembra veramente bello ne aveva 27 quindi abbiamo detto proviamo ma come in tutte le cose a me piaceva piace organizzarle ok quindi avevo detto mi piacerebbe che possa nascere comunque in primavera uguale stessa identica cosa il 12 dicembre è chiaro l'abbiamo provato ed è arrivata allo stesso mese io che cosa ti devo dire non ho capito a quale volatile arrivava con Santa Lucia con l'asino sono arrivata con l'asino sono arrivata con l'asino ecco bravo con l'asino di Santa Lucia era un venerdì alle 9 e 10 di mattina la notte di Santa Lucia esattamente e volevo farla nascere a marcio hai visto cioè pensa a te sarebbe stata magari una pescerina come me e chi lo sa per altre consulenze chiamate quindi possiamo dire che beh se siamo una grande famiglia devono sapere anche queste cose ok quindi niente Simona non puoi dire che non sei stata desiderata questo è proprio il caso di dirlo poi la vita capita succede no nelle migliori famiglie per quante volte ti sei separata due tre due ecco quindi lei si è fermata a uno ha capito subito l'errore non ha fatto come te esatto è andata così sì ma di errori se ne fanno sempre nella vita l'importante è che un po' di esperienza serva magari a qualcosa e se non sarà così ragazze la nostra Gabriele oggi è pure saggia ma lo sono sempre prendiamo quello che viene dalla vita e cerchiamo soprattutto di star bene lo dico a me stessa ecco siamo qua a vendere abiti ma se possiamo far star bene le nostre amiche facciamo anche quello esatto posso dirti grazie 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 mille io continuo io ringrazio Simona invece prego amore e Stefania le nostre amiche ti ringrazieranno ancora di più perché così hai provato i capi con la tua simpatia con la tua con la tua fisicità e con tutto ognuno si identifica in chi e cosa vede dite la verità amiche mie vero e siamo proprio amiche stiamo proprio bene insieme vero per cambiarti che cosa vado vado adesso io sto agita un attimo saluti tu poi vado sì grazie 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 a te Kate ti voglio bene anche io allora stavo dicendo non mi ricordo più che cosa stavo dicendo che comunque siamo una grande famiglia no stavo dicendo questa è la prima cosa che mi viene perché me lo dite sempre anche voi ma non mi ricordo cosa stavo dicendo guardala lì è bello è bello avervi è bello è bello sapere che che sono qui a fare qualcosa non solo è ovvio che sono tu per vendere no voglio dire questo che vi stavo dicendo faccio vedere anche i godi per venderli altrimenti che cosa faremmo cioè il lavoro è lavoro ok lo faccio da quasi 40 anni bisogna dire anche quello quindi metto a disposizione delle nostre amiche visto che poi ci vogliamo così bene e siamo diciamo in sintonia si è creata questa armonia si è creata questa solidarietà femminile si è creata questa bellissima cosa e io tengo a mandarla avanti ok perché ci tengo troppo poi il vendere l'ho sempre fatto ragazze nell'arco degli anni avevo clienti fidelizzate che venivano in negozio e mi adoravano sotto un certo aspetto avevano la felicità di 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 entrare dalla porta e di dire ah tu ok io due secondi la inquadravo 5 6 7 8 outfit messi nel camerino una non sapeva che cosa lasciare in negozio e diceva io li prendo tutti ma tu come fai a sapere che questa cosa mi stava bene oppure come ho fatto con la nostra marina o con tante di voi perché lo facciamo anche su whatsapp vero o no Simona che no questo non ti può star bene ti mandiamo quest'altro questo non ti può andare bene ti mandiamo quest'altro facciamo anche quello diciamo anche di no capite perché questa essere seri e tenere a quello che stiamo facendo certo siamo chi a intrattenervi ovvio ho creato questa grande famiglia e dico oh bene inizialmente con l'aiuto di Simona abbiamo aperto questo negozio perfetto quando mi sono trasferita che mi sono separata ma va bene tutto la vita porta a queste cose l'importante è associare la parte lavorativa che è quella che faccio a a intrattenere le nostre amiche non allungo tanto perché oggi non ho voglia di emozionarmi perché mi emoziono già abbastanza e poi dite che lo faccio troppo spesso però quello che dico avrete sicuramente imparato pensate che avevo sotto anche questo capo ecco perché sono regolato per dirvi che questo avito è meraviglioso io adesso ragazze tolgo il giacchino un attimo perché sarà leggero sarà quello che volete ma tiene molto caldo 89 euro il giacchino quindi è per metà bengalina e per metà ecopelle ecco sono tornate ad avere manualmente il telefono stavo dicendo l'aggeggio in mano ma meglio che non dica nulla se no Kate interviene immediatamente quindi abito 79 euro colori rosso india blu nero verde beige e vino cioè più di così ragazze volevo mettere questa e non l'ho ancora messa ah si no l'ho messa nelle foto sì nelle foto esatto allora il nostro taglier come quello che indossavo 109 euro la giacca 59 euro la gonna e la nostra camicia arrivata ieri a 69 euro ditemi voi se questo completo non è una meraviglia scusate che qui c'è l'accessorio girato ecco perché è leggermente bombato quindi si vede la bombatura ed è meraviglioso dalla 40 alla 54 forse ci manca qualche taglia adesso vero 25 euro la collana e se volessimo mettere questa scritta qui sopra cos'è che c'è scritto? family ci sta anche quella ok? questo era un regalo della nostra carmesita che mi aveva mandato mi ricordo ancora si inquadro la tua mentre passi 25 anche la tua sì 25 stupenda meravigliosa in questa è laccata vedete stupenda andiamo a vedere qui ragazze la giacca del completo che è arrivata la volta scorsa quello che ha il gilet quindi il punto Milano con lo spigato che è stupendo la camicia che indossava Kate dalla 40 alla 54 69 euro la giacca questa 119 euro era quella era la giacca che costava 119 euro con il suo calzone a carota che lo andate a vedere indossato a me e qui manca il gilet che si potrebbe mettere e bianco e nero e beige e taupe perché i colori sono 4 di questo tailleur oggi volevo indossare questo poi alla fine abbiamo cambiato tutto il nostro abito in crepe a 79 euro la nostra giacca con la coda meravigliosa a doppio petto che se avete interesse andate a vedere sulla pagina gabriesse abbigliamento donna sul sito gabriesse abbigliamentodonna.com o sul canale youtube li vedete indossati e sono una meraviglia vogliamo parlare di color vino di questo completo che abbiamo riassortito stamattina e poi ne abbiamo pochi dalla 40 alla 54 a 69 euro la maglia chiamiamola così vedete che sembra un abito ma è aperto a maglia e 59 euro il calzone chi volesse prendere qualcosa di spezzato diamo prima la maglia perché poi è più facile vendere il calzone comunque sia chiedete anche questo starebbe molto bene con il giacchino in ecopelle che è appena arrivato buttato sopra verde vino nero e blu i colori ok ragazze bene dimmi mi stanno chiedendo di poter vedere tutti i colori del giacchino nuovo tutti i colori del giacchino nuovo li abbiamo fatti però adesso andiamo a andiamo a prenderlo uno a uno perché è nero quello che indosso due di vino il vino e il vino lo avevo anche me lo vai a prendere ecco perfetto non è sulla gruccia ragazze ma va bene lo stesso perché li ho indossati ecco qua uno lo mettiamo qua praticamente sono in pelle all'interno è praticamente scamosciato e all'esterno è pelle facciamo notare una cosa importantissima allora che per quanto concerne grazie il vino e guardate che questo è un colore che ho nell'armaggio da 25 anni dopo che si muove vado a prenderlo è stupendo potreste adesso vi faccio vedere una cosa che potreste fare beige e color vino dalla 40 alla 54 vedete che è tutto ecopelle mentre invece questo è per metà tessuto bengalina come l'abito che indosso e per metà ecopelle perché non avevamo più le ecopelle da finirlo scusami un secondo che vado a prendere volevo siccome mi ricorda molto quel giacchino di Simona non dico che dovete fare chissà che cosa però guardate a parte che anche se doveste mettere non so un calzone sotto color vino potete mettere un richiamo così ed è subito fatto vedete mettete l'abito sotto color vino mettete il calzone mettete il pantalone sbragato sotto mettete quello che volete e io ricordo proprio quel giacchino lì che vi sto dicendo adesso essere tutto pieno di quello è la pen vero ma poco importa potete magari addobbarlo e mettere mettere due più mette così potete farlo potete non farlo per l'amor del cielo ragazze potete fare quello che più vi aggrada ma se avete un certo gusto se vi va di fare dei cambiamenti vi fa di fare dei completamenti a un qualcosa fatelo cosa devo dirvi questo è quello che ho indossato io sarebbe molto bene anche abbinato per dire con il giacchino con l'abito nero potete fare quello che volete basta un accessorio basta una scarta quando arriva la donna si divertirà a trovare tutto il negozio è riuscita a non prendere magari il nostro che è pieno di abiti a parte che voglio dire ragazzi in diretta sono anche le scarpe in diretta va bene questo è l'abito questo è il completo abito che indossavo io l'altro giorno con la giacchina 79 euro è esattamente quello che indosso in questo momento ok e la giacca 99 euro questo è abbiamo tempo quanto è che siamo in diretta un quarto 10 alle 2 quasi 10 alle 2 quindi devo anche andare completo magari mettendo la giacca verde qui sopra visto che vi piaceva il verde e poi perché abbiamo iniziato presto abbiamo fatto vedere tante cose comunque ragazzi se c'è qualcosa che volete chiedere e che vi viene in mente fare degli outfit diversi quello che è insomma ragazzi chiedete su Whatsapp e vi giriamo il tutto vorrei finire arrivando qui perché qui è dove dovete scrivere vi prendete questo numero e ve lo tenete poi cercate sul canale Gabriele S abbigliamento di Youtube e vi iscrivete così siete già iscritte e li è e li siete pagina Gabriele S abbigliamento donna appena finisce la diretta ci vedete indifferita o il sito il sito è praticamente quella cosa dove quando voi andate vi accolgo e via dicendo vedete un po' il mio passato dopodiché trovate tutti i tasti che vi portano a Whatsapp che vi portano a Youtube che vi portano a Facebook che vi portano e se volete seguire Instagram ci sono i rail che io preparo e che avete modo di vedere diciamo quello che indosso al primo al primo momento borsa 39 euro dimmi Cata allora abbiamo due messaggini che riguardano lo stesso giacchino Katia chiede vestibilità e Stefania dice magnifico questo giacchino mi ricordi il prezzo certo 89 euro io indossavo la 40 e la Cata indossava la 54 quindi tre colori beige vino e nero dalla 40 alla quindi la vestibilità è bella io 40 Katia e 54 ci avete visto ora quindi vestibilità stupenda perché la nostra Katia gli piace un pochettino inciucciato di solito e la nostra Katia ha capito scocchi ma un 48 la nostra Katia si anche per me ci vuole si che poi sotto ci metti al pelino dentro ci sta dai giusto 48 perché all'interno è il necodainetto e quindi fa trito sulla spalla cioè non è foderato non è scivoloso lo sentite caldo proprio per questo io credo 48 Katia si anche per me è venduto era colore che volevi tu magari dai buonoli ecco quindi Katia se lo puoi fare nero nero è in bengalina magari quello ti puoi gestire ma non abbiate paura poi tanto le vostre misurine le abbiamo non abbiamo perché lei ha le fisse di volere sempre la taglia in meno tu Katia anche due anche tre taglia in meno e a volte quando rispondevo io al tuo posto Katia si a volte avevo risposto io e si era offesa ma io non è mai mi permetterei di perché magari per messaggio non risulta la punteggiatura o altro però io anzi se posso appena appena volentieri perché poi parate a conoscerci io magari ti dico scusa perché arrivavo di fatto lo salutavo io invece no fin troppo perché io ragazze sono così cioè devo fare mille cose e quando magari vi rispondo io sono un attimo più sintetica ma l'importante è che quello che esce dal nostro consiglio tutti abbiamo la nostra personalità le nostre maniere no? ecco dal nostro consiglio sia quella cosa che quando vi arrivo a casa aprite il pacco dite wow è perfetto questo noi ci teniamo in ogni caso a fare questa pelliccia meravigliosa ero partita che ve la volevo far vedere come ero come avevo iniziato poi adesso abbiamo cambiato tutti gli outfit tutti gli abbinamenti comunque questa borsa meravigliosa 89 euro questa pelliccia altrettanto marrone beige nera e bianca a 89 euro scusate fino alla taglia 54 una taglia unica ma si veste fino alla 54 e questo meraviglioso abito c'è sotto ancora anche la giacca stupendo abito a 79 euro quindi vedete che si può fare anche vari colori non prendiamo questa prendiamo questa perché magari sono vestita così stava benissimo anche quella ma diamo un tocco di richiamo un motivo per dire dai abbiamo la giacca verde mettiamo magari un accessorio nel verde fate quello che volete amiche miei l'importante è che mi voliate sempre bene e che mi seguiate come state facendo noi daremo il massimo per voi e oggi Cate l'ha dato anche il suo massimo e sono molto felice la ringrazio la ringrazio per voi perché ha fatto un regalone non preoccupatevi che arriva anche Simona perché altrimenti ho fatto oggi c'è un tempo sai quando mi cadevano le cose quando noi donne una volta al mese aspettavamo qualche cosa adesso una volta al mese visto la mia veneranda età non aspetto più niente ma mi cadono ma mi cadono e sono rivolso i corrieri mi cadono tutti i giorni cosa Simo? ho detto che buon tempo vorrei anche io non aspettarle più se tu non aspetti più le cose di noi donne dovresti avere un'età avanzata e non te lo auguro quindi insomma ragazze questo è siamo donne oltre alle gambe c'è di più vi adoro dai forza che dobbiamo ancora mangiare qui e voi avrete non so mangiato avrete iniziato a lavorare ci avete abbandonato tornerete hanno anche lavato i piatti che fortuna va bene amori miei prossimamente su questo schermo che giorno è oggi? è venerdì mannaggia buon weekend ci vediamo lunedì ok o non lo so se si comporta bene se no non la vedete ciao amori vi voglio un mondo di bene ciao scrivete qui 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 finiamo così qui un po' più su grazie qui un po' più su